È un'occasione questa anzitutto per invitare a partecipare per chi può nella cattedrale alcuni momenti più importanti e poi nelle parrocchie di ciascuno a tenere viva la presenza e momenti significativi sono certamente il concerto meditazione che faremo nella Pieve mercoledì sera alle 21 e poi ancora la Messa Crismale. Vorrei davvero invitare perché è una celebrazione unica in tutta la diocesi nella cattedrale alle 10 giovedì con il nostro presbiterio con il clero ma anche con tutte le persone penso per esempio ai cresimandi di questo anno ecco l'invito è davvero per loro a partecipare alla Messa Crismale che è davvero intensa e particolarmente ricca e poi tra le altre celebrazioni mi piace ricordare quella della Messa in cena domini in carcere alle 16 di giovedì e la grande veglia pasquale alle 22 e 30 sabato sera e arriverà poi così nella notte di Pasqua dove avremo anche il battesimo di alcuni adulti. La guerra a livello internazionale e le nuove povertà per quello che riguarda un po' più casa nostra questi sono i dolori insomma di questa Pasqua? La Pasqua deve essere proprio un augurio di pace e che ci ricorda come la pace è il dono che il Signore risorto porta lui incontrando i suoi dice pace a voi e ci accorgiamo che in un mondo che sempre più parla di guerra che non ci fa vedere leader capaci davvero di cercare di volere e di costruire la pace noi siamo convinti che possiamo chiederla in dono al Signore nella preghiera e chiedendola in dono siamo fatti noi ciascuno costruttore di pace anche richiedendola reclamandola facendo sentire con la nostra voce la nostra testimonianza che noi vogliamo la pace non la guerra vogliamo gli abbracci non le armi e allora ecco credo che oggi questo annuncio e questa esigenza di pace che dobbiamo far sentire come comunità a voce alta ecco questo è quello che che chiediamo anche in questa Pasqua e grazie a tutti grazie a tutti